Come piccolo? Eh sì, perché montagna, stavo dicendo, da questa parte, questa parte qua, dove faccio un dito, è stato terremoto, tutte le case sono cadute, diciamo undici anni fa, hanno aggiustato e le hanno fatte tutte e nove. Guardate che panorama, e noi abitiamo un po' più là, molto più là dopo quelle montagne, cioè diciamo quindi 20 chilometri da Lucera Umbra, sì. Adesso faccio anche questa parte qua, guardate che paese, questa è Lucera Umbra Vecchia, tutta questa qua, vedete? Non c'era Umbra Vecchia, tutta, antico, sì. E lì è quella nuova, non c'era Umbra nuova, montagne alte qua, eh. Lì ci sta piscina che andiamo noi, si vede la piscina, non grandisco così lo vedete, è la piscina, in mezzo alle montagne, noi sempre qua, bello. Ecco Pasquale sta parlando qua, anche da questa parte, perché faccio già tutte le parti, come panorama, bello. Lucera Umbra, montagna, 1500 metri, bello. Aria pulita, qua è proprio la vita, ti rinasci quando respiri quest'aria. Vi auguro anche a voi a visitare Italia Lucera Umbra, bello. Una panorama stupenda, bello. Sì, arrivederci a tutti, castello di Lucera Umbra. Molto alto.